Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta, noi dei 5 Stelle, ne abbiamo restituita la metà. C'è una coppia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbenti che si sono voluti tenere la neve per farsi un pupazzo e li abbiamo espulsi. Noi fanno tutto bene, ma niente, continuano ad attaccarci, ingiustamente, anche oggi scuole chiuse. E qual è il problema? Di Maio c'è andato poco e guardate che carriera che ha fatto. Poi senza contà che con le scuole chiuse, Giovanni, con le scuole chiuse ci saranno meno episodi di bullismo, no? Con tutti questi professori che gli emelano, passano due giorni a farsi rimaginare le perite. E la state respirare, Morelli. Insomma, Giovanni, tutte queste accuse a mia sorella che starebbe in Messico al caldo, mentre noi stiamo qui a freddo. Non è vero. Virginia, sei dedicata in Messico perché c'è questo assessore bravissimo messicano. Chico Barreiros, che ha risolto il problema delle buche a città del Messico, le ha coperte con i sombreri. Un genio!